I supereroi sono ovunque! Guardati intorno! Capitan Marvel non ha paura dell'altezza e il vento non le rovina mai i capelli! Ma a volte anche lei ha bisogno di una pausa! Oggi prendo un taxi! Sono Acquaman e le persone su questa nave che affonda hanno bisogno del mio aiuto! Vi salverò! Brrrr, l'acqua è gelida! Questo non era nel mio contratto! Aspettate, gente! Vi mando il mio compagno più forte! Sì, coraggiosa paperella! So che puoi farcela! Un salone di bellezza per supereroi! Vorrei una manicure classica e assicurati di tagliare le cuticole! Ovviamente! Posso avere le tue unghie? Ah! Oh cavolo! Oh cielo! Succede ogni volta! Essere Superman è una cosa seria! Ehi Clark Kent! Non dimenticare i pantaloni! Oh, questo costume mi dà un sacco di problemi! Dovrò stirarlo di nuovo! Ho sentito qualcuno chiedere aiuto! Durante il giorno Wonder Woman indossa dei normali abiti da ufficio e lavora in un ufficio normale! Proprio come tutti gli altri! Si arrabbia per le cose ordinarie! Oh, quella era la mia tazza preferita! Ho bisogno del mio caffè mattutino! Ora basta, ragazzi! Mi sono anche rotta le calze! Cielo! Odio questa giornata! Vieni qui, tu! Ah, questi collant non sono poi così male! Il colore è giusto! La taglia è giusta! Perfetti! Tutti i bagni sono occupati! Oh cielo! I ragni hanno vesciche molto piccole! Oh, finalmente! Oh, accidenti! Thor ha dimenticato il suo martello! E nessun altro può sollevarlo! Non provarci nemmeno! Catwoman può essere una donna! Ma è anche una gatta! Era una palla di capelli! Che schifo! Vediamo Catwoman nel suo habitat naturale! Oh, che cos'è? Lo voglio! Ups! La gravità mi ha fregata! E' ben addestrata e sa usare perfettamente la lettiera! A Spider-Man, proprio come una persona normale, piace mangiare prima di andare a dormire! Oh no! Il suo sesto senso ragnoso non mente! Nasconditi! È la zia mei che viene a prendere un po' d'acqua! Io sono al sicuro! Il mio telefono è morto! Ho bisogno di un caricabatterie portatile! Carica! Wow! 100%! Niente male! Peter Parker sta strisciando per gli affari suoi! Oh! Un ragno! Aspetta! Ti farò uscire! Ora sei libero, ragnetto! Non c'è bisogno di ringraziarmi! Wolverine voleva provare un nuovo hobby! Lavorare a maglia è facile! Hanno detto! Ti piacerà! Hanno detto! Nel suo tempo libero, Capitano America prende le ordinazioni in un bar! Il suo vassoio è uno scudo eccellente! Ho sentito che qualcuno ha bisogno di aiuto! Sto arrivando! Oh my god! Shhh! Sdraiati albero! Svegliati amico! Questa è una rapina! Hai scelto l'appartamento sbagliato amico! Questo è Flash! E gli ci vorrà solo un secondo per legare e neutralizzare la minaccia! Straiati! Rilassati! Hulk ha ottenuto un lavoro come tata! È un duro lavoro! Questo bambino piange da un'ora! Oh! Ecco un'idea! E chi abbiamo qui? Shrek! Tutti i bambini amano Shrek! E ora nessuno piange più! Grazie per il complimento! Thor dopo una festa! Devo aprire questa bottiglia! Dov'è il mio martello? Non ordinerò mai più nulla dalla Scandinavia! Wow! Finalmente! Comunque per farla breve, le giornate normali esistono anche nella vita dei supereroi! Si sentono tristi! Non riescono a farsi i capelli! Non riescono ad alzarsi presto al mattino! E sono troppo pigri per nuotare! Possono anche essere goffi, come la gente comune! Ma li amiamo ancora di più proprio per questo! Ti sono piaciute le nostre storie sui supereroi nella vita reale? Allora facci sapere nei commenti quali problemi dei supereroi riguardano anche te! E ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, mettete like a questo video e fate click sulla campanella! Non perdete le nuove storie divertenti sui supereroi di Woohoo!